e di nuovo cambio casa di nuovo cambiano le cose la casa si prende l'affitto non si paga bentornati alla nuova puntata delle fritt ciao marco tra pietro abbiamo rispolverato uno slogan degli anni settanta così proprio l'abbiamo tirato fuori dagli archivi esatto però casca a fagiolo perché oggi questo è il titolo della puntata parleremo di diritto alla casa e diritto all'abitare e il motivo per cui lo facciamo è che lo scorso fine settimana è stata una giornata un fine settimana di mobilitazione a livello europeo sul diritto all'abitare sul diritto alla casa e nei paesi diciamo più sviluppati il problema del diritto alla casa non è un problema nuovo però chiaramente negli ultimi diecenni di austerità il problema è di vedere si è ingigantito in maniera in maniera totale abbiamo trovato qualche dato come sempre pare che il 38 per cento delle famiglie europee sia a rischio povertà cioè significa che spende più del 40 per cento del suo salario annuale in in per pagare l'affitto di casa poi fonda fondamentalmente ora diceva beh il 38 per cento di che parliamo parliamo di più di 150 milioni di persone quindi dato significativo rispetto alla popolazione europea e poi l'altro dato che a noi ha fatto discutere molto è che si parla di circa 700 mila persone senza fissa dimora che sembrano anche lì sembrano poche ma non lo sono anche perché negli ultimi dieci anni senza fissa dimora sono pare siano aumentati di più del 70 per cento quindi c'è comunque una situazione complessissima da un punto di vista da un punto di vista sociale e le manifestazioni hanno chiesto di utilizzare una volta ancora il famoso e ormai celeberrimo recovery found fond per per intervenire sul diritto alla casa sul diritto all'abitare e per una casa degna per tutti ora ha fatto questo pipponcino iniziale con i dati adesso con marco proviamo andare a mettere il naso su alcune situazioni europee che sembrano ovviamente ci sono delle diversità ma il quadro è quello che abbiamo detto prima una situazione drammatica più o meno da tutte le parti marco da dove vogliamo cominciare beh cominciamo dal fatto che allora in europa il modello e soprattutto al sud ma non solo al sud è sempre stato quello di favorire l'acquisto della casa quindi la platea delle persone che hanno bisogno di una casa in affitto è sicuramente ridotta e questo ha permesso nonostante la drammaticità della situazione di non avere conflitto sociale esteso da questo punto di vista perché riguarda una minorità una della popolazione il nodo principale che con gli anni dell'austerity con il mito dell'austerity sono diminuite le è diminuito l'intervento pubblico e quindi la disponibilità di alloggi a prezzi calmeriati sostanzialmente questo quando la gran parte delle persone che devono affittare un appartamento deve rivolgersi al mercato privato o possono esserci situazioni con grandi dolori facciamo un esempio della spagna no c'è una diatriba forte nel governo di coalizione formato dal psoe e da podemos proprio per la nuova legge sulla casa in spagna la situazione soprattutto in alcune grandi aree metropolitane è molto complicata perché i prezzi sono lievitati e c'è una fascia consistente di popolazione che non arriva al mercato dell'affitto non è in grado di pagare quelle cifre e quindi questo che cosa comporta poi nella città comporta il fatto l'allargamento a dismisura della città questa gente va a vivere in quartieri molto distanti e poi c'è il problema del traffico perché poi la gente deve andare a lavorare fino dall'altra parte in spagna si confrontano due posizioni no da un lato la posizione più di sinistra di podemos che sostanzialmente dice dobbiamo introdurre qualcosa simile a quello che era l'equo canon e che fu introdotto in italia negli anni a metà degli anni settanta i famosi anni di piombo che in realtà invece ci furono le più importanti riforme della storia dell'italia repubblicana cioè in alcune aree ci siano dei prezzi massimi e l'altro la posizione del so è che per noi che ad esempio viviamo in belgio è molto comprensibile anche come dire è comune e che è quella della detassazione allora cioè che cosa dice per calmierare abbattiamo del 60 per cento o la l'imponibile e sul reddito ottenuto o tramite affitto in belgio è il cento per cento nel meglio l'affitto è fuori e dalla contabilità generale della dichiarazione dei redditi anche se poi invece sulla casa di proprietà pagano tutti cioè non c'è come in italia sta storia no la prima casa non paga anche se un castello o di 64 mila stanze non paghi le tasse su quella casa e allora il modello è quello di dire eh io non vi faccio pagare le tasse questo in qualche maniera calnera il mercato perché eh cioè indubbiamente la pressione fiscale sul reddito o da da affitto o può essere alta il problema è che questo forse funziona nei paesi del nord dove il livello di evasione fiscale è molto minore qui in belgio infatti ha il vantaggio che tutti i contratti sono ufficiali è difficilissimo che se vuoi andare sul mercato dell'affitto in belgio o il padrone di casa dice sì facciamo un accordo però non lo scriviamo non facciamo niente questo quindi garantisce da anche una serie di protezioni all'inquilino in italia abbiamo avuto un esempio simile quando a un certo punto pochi anni fa era stata deciso uno o una tassa fix fissa no c'era eh la ritenuta era il 10 per cento di quello che tu incassavi dall'affitto il problema in un paese dove tantissimi affitti sono a nero anche che tu dici che faccio pagare solo 10 per cento è sempre 10 per cento di più che non paga niente quindi questo è un po' il dubbio su i tipi di intervento possibile su questo argomento esatto e due punti il modello belga chiamiamolo così come l'abbiamo citato eh c'ha anche un ulteriore variabile che si regge e tiene i prezzi calmierati quando c'è eh una gran una certa disponibilità di nuovi alloggi di residenziali pubblici o a prezzi calmierati eh quindi il comune dà la possibilità a qualcuno di costruire una parte di quegli appartamenti viene destinato a un affitto calmierato questa cosa negli ultimi anni dovuto al fatto che comunque l'austerity che dicevamo prima ha colpito a tutti i livelli questa cosa si è ridotta e quindi il mercato è andato un po' eh dove eh dove voleva l'altra cosa chiaramente è l'altra faccia della medaglia sono eh i salari nel senso che eh se i salari aumentano quanto gli affitti la questione rimane comunque grave ma tamponata ma è chiaro che negli ultimi decenni i prezzi degli affitti sono sono aumentati molti molto di più che la media dei salari e quindi la questione si è aggravata anche per questa forbice che si è aperta negli ultimi negli ultimi vent'anni. L'altro esempio che possiamo dare eh secondo me interessante è quella quella di Berlino eh dove c'è il Berlino è una città stato lo ricordiamo eh ha un suo status molto particolare anche in Germania dove c'è un negli ultimi diciamo nell'ultimo anno anno e mezzo si è coagulato un movimento molto composito che sfruttando la normativa vigente sta facendo una raccolta di firme eh per introdurre una una legge eh a Berlino eh che consente di espropriare praticamente senza indennizzo e eh destinare le case espropriate ad alloggi pubblici eh per tutti quelli eh che hanno più di tremila case che sembra diciamo un numero assolutamente elevato però eh nell'area berlinese eh il mercato è gestito da poche grandissimi banche fondi di investimento che hanno migliaia e migliaia di appartamenti di proprietà quindi eh andrebbe a colpire la rendita in favore eh del del comune eh e e ovviamente in favore eh di di rimettere in circolo queste eh queste case anche lì se bizarre come si dice da queste parti si confrontano due modi un po' di approcciare eh da sinistra diciamo qui sono i verdi è una parte la parte più moderata dei socialdemocratici che sta cercando non disminare il campo ma sta cercando di introdurre delle leggi eh che consentono di aumentare il parco di case ad alloggi pubblici e mentre c'è una parte diciamo la link e quindi la parte della sinistra eh più o più a sinistra diciamo nell'arco parlamentare tedesco che invece sta spingendo moltissimo su questa eh su questa raccolta di firme perché poi va a colpire banche fondi di investimento grandi eh investitori stranieri che poi non non pagano poi le tasse in Germania questo poi il vero punto direi è importante pure ricordare come eh nella fase della pandemia ci sono stati degli interventi di protezione no quindi col blocco degli sfratti in Italia è stato introdotto dal conte due e c'è stato un primo blocco degli sfratti fino alla fine del 2020 che poi è stato rinnovato per sei mesi con alcuni problemi nel senso che il blocco degli sfratti la il rinnovo prevede alcune casi nei quali non funziona il blocco degli sfratti per esempio la finita locazione eh che ha comportato un po' di di problemi perché in alcuni casi in una situazione difficile come questa attuale eh un inquilino che ha pagato regolarmente eh il suo affitto facendo i salti mortali si trova a espulso e in Spagna la cosa interessante ugualmente è stato fatto un blocco degli sfratti e che è stata introdotta in per casi similari una compensazione da parte dello Stato nei confronti dei proprietari se si blocca o se l'inquilino per esempio è andato in cassa integrazione quindi non riesce a pagare l'affitto l'inter viene lo Stato o dando un contributo al proprietario o dell'appartamento con un vincolo visto che un governo di coalizione di sinistra che se il proprietario è una banca o una grande immobiliare no grazie però è importante vedere come in questa crisi di pandemia anche in Francia c'è stato il blocco degli sfratti cioè c'è stato un minimo d'attenzione logicamente quando il tuo slogan è state a casa e tocca che la gente ci possa stare a casa e di avere solamente i senza fissa dimora che sono non pochi come problema da gestire da questo punto di vista. Speriamo di aver dato qualche spunto di riflessione anche per qualcuno che voleva capire meglio la situazione e magari impegnarsi anche nei vari movimenti per la casa che ci sono in giro per l'Europa. Quindi noi vi ringraziamo per aver visto questo video e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. A presto! Ciao ciao!